Ciao bimbi, come state? Stavo pensando di leggere con voi questo libro, ve lo ricordate? Oh oh, lo leggiamo insieme? Cosa ne dite? Mi mando un bacio grandissimo! Oh oh, cosa sta succedendo? Boing, boing! Mannaggia, ma Gufetto è caduto! Bing, boing, boing! È caduto Gufetto! Ma tutto bene? Eh, mi sono perso, ho perso la mia mamma! Ma non preoccuparti piccolo, vedrai che la troveremo! Ma com'è fatta la tua mamma? Lo ricordate? La mia mamma è grande, grandissima così! Ah ok, ok, ho capito, ho capito! Vieni, 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 seguimi, seguimi! Eccola la tua mamma! Ma no bimbi, ma non è la sua mamma! La mia mamma ha l'orecchia, punta così! Ah ok, ok, ho capito, ho capito! Seguimi, seguimi! Vediamo un po'? Eccola la tua mamma! Ma no, risponde Gufetto, lei non è la mia mamma! La mia mamma ha gli occhi grandi, grandissimi così! Eccola la tua mamma! Ma no! Ma non è la mia mamma quella! Ma aspettate un attimo! Fermi tutti! Io so dove è la tua mamma, ti sta cercando! Guardate, guardate! È là in fondo, è là in fondo, è là, è là, è là la tua mamma, è là! Eccola la sua mamma! Mannaggia, che stava anche piangendo, era preoccupata! Ma cosa dice la mamma? Cosa ne dite di venire a fare una merenda sopra il nostro albero? Tutti quanti insieme, così almeno ci mangiamo i biscotti insieme! Oh, mannaggia! Cosa sta capitando? Mannaggia, che sta di nuovo cadendo! Bimbi, spero che vi sia piaciuto questo libro! Noi maestri vi pensiamo sempre, vi siamo vicini e vi mandiamo un grandissimo bacio! Ciao bimbi belli, un abbraccio grandissimo! Ciao bimbi, un abbraccio grandissimo!